Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. Il vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale presente sul Mediterraneo lentamente andrà ritirandosi verso ovest. Ciò permetterà ad aria più fresca e instabile, proveniente dai Balcani, di interessare i settori adriatici. Avremo instabilità lungo la catena peninnica e sulle zone interne, con rispettivo lieve calo delle temperature. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per venerdì 16 giugno. Al mattino variabile con possibilità di rovesci lungo le coste adriatiche. Nel corso della mattina maggiori schiarite. Dal pomeriggio ritornano temporali e rovesci isolati, con maggiore possibilità sulle zone interne di Puglia e Basilicata. Migliora con rasterenamenti dalla sera. Temperature in lieve diminuzione nei valori minimi. Stazionare invece le massime con ponte fino a 32-33 gradi su tavoliere e materano interno. 20 deboli di direzione variabile e brezze lungo le coste. Mari da calmi a poco mossi. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Oggi ringraziamo la nostra telespettatrice Francesca Mongelli per questo spettacolo sul mare che ritrae i primi bagni della bella stagione da punta prosciutto in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero Whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.